amici di se che gusto benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a proporvi un dolce di mia invenzione quindi cremoso a rum secondo il mio punto di vista il dolce non deve mai mancare siccome io sono un po' particolare me levatemi tutto però non toglietemi il dolce a fine pasto è quel qualcosa che chiude e vi lascia il sapore dolce in bocca questo dolce è pensato proprio per essere realizzato anche all'ultimo momento pure se non avete pensato a nulla perché veramente si fa con poche cose e in 15 minuti vi mostro ora il procedimento e gli ingredienti 250 grammi di mascarpone 250 grammi di panna da montare doppia dose di rubio due cucchiai li utilizzeremo per bagnare gli amaretti gli altri due per insaporire la crema delle arachidi salate se avete arachidi non salati non preoccupatevi perché possiamo andare a salarli durante la fase di tostatura perché andremo a tostarli in padella poi 100 grammi di zucchero due uova e degli amaretti come strumenti abbiamo bisogno di un cucchiaio di legno una ciotola e due contenitori di vetro sono molto importanti perché avremo bisogno poi di trasferire le creme inoltre abbiamo bisogno di uno sbattitore e una padella prima operazione a raggi di attostare seconda operazione giù la panna e andiamo a montare terza operazione montiamo gli albumi a neve con un pizzico di sale step 4 colli in ciotola giù lo zucchero e andiamo a montare al massimo della velocità dopodiché mascarpone e rumpi crema al mascarpone a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aggiungiamo gli albumi montati. Non ci resta che assemblare il tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro dolce è pronto. Sono emozionato perché io ovviamente già conosco il sapore ed è buonissimo. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per le notifiche e di commentare nel video. Ricordate anche che dosi e il procedimento sono su www.saichegusto.it Io con l'assaggio vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.